Scuola a ripartenza tra le polemiche a Napoli, dove se 200 scuole restano chiuse per le bonifiche dopo le elezioni, altre non hanno riaperto i cancelli per la protesta delle maestre, educatrici e personale scolastico che sono arrivati sotto la sede del Comune per rivendicare l'apertura delle scuole in sicurezza. Sindacati sul piede di guerra, ma il sindaco De Magistris tira dritto. In questo momento dobbiamo mettere davanti quello che è il baluardo di una democrazia, le scuole. Oggi le scuole dovevano riaprire, quindi la mia opinione è che non c'era alcuna ragione per fare un'assemblea di questo tipo. C'erano le ragioni per fare tavoli permanenti, tavoli continui, cominciare a vedere le cose che vanno e consolidarle, le cose che non vanno e migliorarle, ma cominciare in questo modo, sinceramente, come qualcuno ha cominciato l'autunno mettendo in campo attività di un certo tipo in altri comparti dei servizi pubblici della nostra città, noi le comprendiamo queste dinamiche. Ma in altre scuole le attività sono ripartite tra qualche attesa e la gioia degli studenti di ritornare in classe tra i compagni. Lo spirito è alto, devo dire siamo abbastanza ottimisti, soprattutto perché abbiamo lavorato tanto per poter cominciare questa giornata nel migliore dei modi e secondo quelle che sono le modalità che ci sono state suggerite. Sono felice e spero comunque nel meglio perché la scuola mi è mancata, mi sono mancati i miei compagni, proprio l'ambiente scolastico mi è mancato tanto, quindi spero comunque vada tutto bene. La nostra scuola si è dimostrata pronta ad accogliere questa emergenza, ci sono molte normative, molte misure di sicurezza, sono stati molto restrittivi, quindi in sicurezza riprenderemo. Io davvero non vedevo loro, penso come tanti altri ragazzi, quindi sarà un'emozione. Fin quando tutti quanti abbiamo le mascherine, tutti quanti usiamo la mucchina e vengono igienizzate le strutture, diciamo stiamo a posto, stiamo bene, quindi no, paura no.